Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video di Subnautica. Siamo in questa base che vi domanderete E dove l'hai fatta Roll Pierre? Purtroppo anche in Subnautica ho avuto problemi con il microfono quindi mi dispiace ragazzi ma vi dovrò fare un altro riassunto. Avevo iniziato con un messaggio della radio che ci diceva sostanzialmente di averci trovato di aver individuato la nostra posizione e che prima o poi ci porterà a casa. E così deciso a trovare i maledettissimi rubini per realizzare la muta prone mi sono indirizzato verso Sud, Sud Ovest più o meno. Lungo la strada ho trovato dei detriti che mi hanno fornito molto gentilmente dei frammenti per dei bracci per la muta prone, una trivella e un rampino al che finalmente ho trovato un fucking rubino al che ho scoperto che non avevo spazio alimentario. Ne ho trovate molti altri così ho deciso di costruire un avamposto in questa zona, in questo bioma, che era abbastanza profondo e in realtà mi stava già mettendo i brividi. Ho lasciato un segnale così sarebbe stato facile ritrovare la posizione dei rubini. Dopodiché sono tornato in base, ho realizzato i materiali necessari per costruire la muta prone ed eccola lì, finalmente! Al che ho scoperto presto che sarebbe stato un po' difficile attraversare l'oceano con questa cosa lentissima che cammina solo sul fondale marino. Ho deciso di tornare all'avamposto dei rubini per finire il lavoro, dato che non avevo abbastanza materiali per realizzare tutta la base. Così poi ho deciso di esplorare i dintorni, magari a parte dei rubini trovo anche qualcosa altro di tutto. Oh mio Dio, cos'è quella cosa? Allora, questa base l'abbiamo fatta a 230 metri in un posto che a quanto pare non è così poi lontano da un leviatano fantasma. E il che è molto preoccupante. La cosa positiva di questo posto è che c'ha i rubini. L'abbiamo fatta una base per un avamposto per poter esplorare un po' in tranquillità questo posto. Allora, vediamo un po'. Allora, con questo però possiamo andare a massimo 300 metri. Allora, questo posto è orribile. Allora, uno perché ci sono i fucking alieni con i polipi... Insomma, ci sono i polipi con... Quindi fucking... Ecco, quello là si è pieno teletrasportato chissà dove. Porca zoccole. Ma io cos'è... Perché devo venire in questi posti orribili? Spiegami. Perché? Why? Eh, warning. Ora niente, dovrò andare un po' a... A mano, sperando di non morire di ossigeno e di pressure. Allora, tu sei là, ok. Ricordiamoci. Questo cos'è? Albero membrana. Wait, what is this? Wait, what is this? Wait, c'è una struttura... C'è una fucking struttura qua. Allora, mi avvicino giusto un attimo. Non mi ricordo già più... Dove l'ho visto? Mi sono perso. Aiuto. Sono nel vuoto più totale. Oh, oh. Oh. No, aspetta, cosa? Aspetta, cosa? Me ne vado da questo posto di merda. Ah, no. Me ne vado. Allora, dice qualcosa. Contiene i resti di un passeggero ad alta priorità. Però là sappiamo che ci sono i fucking spawner, la Leviatani. Sicuro come la morte. Ah, io non so con la Mutaproon cosa ci dovrei fare. Perché secondo me con questi... Con la Mutaproon non è che ci combatti molto con i Leviatani. Molto bene. Quindi, a che serve? Forse andare tanto in profondità. Fammi vedere. Vediamo un attimo. C'è un indicatore della profondità? 900 metri. Wow. Ok, però posso colpire le gente. Non credo che poi posso, tipo, uccidere le cose. È molto lento. È molto lento. È lentissimo. Domanda. Posso ucciderli tranquillamente? Non è che posso uccidere proprio facilmente. Non credo sia morto. Ehi, sei morto? Sei morto? Dovremo capire cosa devo fare con questo... Con questo coso. Oh, però posso fare questo. Posso raccogliere le cose in profondità. Wow. Molto bello. Bene. È giunto il momento. È giunto il momento di morire di... Spavento. E di ansia. Quindi il nostro obiettivo è raggiungere quella capsula 12. E il punto è che dobbiamo attraversare la zona dei Leviatani. Ora, noi faremo una cosa molto semplice. Arrasciamo oltre i Leviatani. All'altro spero che questo coso sia più veloce dei Leviatani, ma penso proprio di sì. Allora, qua siamo in un bioma con le pietre che levitano. Questo è a 250 metri. Vediamo in quanto profondità andiamo qua. Ma penso che più o meno saremo a 150 qua appena. Quindi... No, neanche a 100. Quindi basta andare un po' più in basso. Ok, i funghi. Ok, so che i funghi... Sono abbastanza sicuri? Credo. Cosa c***o è quello? Cosa c***o è quello? Cosa c***o sono tutte queste cose brutte? Sono brutte le murene? Sono anche tante? Madonna santa, voi siete matti? Voi siete matti? Guardate Rolpierre che va fuori di testa giocando a Subnautica. Yes! Molto divertente! Oh c***o, ce ne sono altre. Oh porca zoccola. Io dovrei tipo uscire qua, entrare dentro... Ma sì, ma c'è. Ma cosa? Passi. Oh! Ops! Qualcuno ha scorreggiato. Oh! Oh! No, è incassato con noi, è incassato con noi, è incassato con noi. Ok, ok, ok. Aspetta, me ne vado, me ne vado. Tranquillo, tranquillo. Madonna, ma quanta gente brutta che c'è. Ma cosa devo fare? Ma che mi segue? C'è una murena proprio qua davanti. Puoi evitarla, per favore? Ok, se io esco da sto coso, no? Ma dai, c'è proprio il tipo là. Ma che palle. Io devo solo entrare lì dentro. No! 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 Ma però ste murene sono... Cioè non ti rompono le balle? Al contrario di quel bastardo là? Che è proprio là davanti! L'hanno messo apposta, sicuro. Allora io... Io entro. 3, 2, 1... Run! Ok. Diario equipaggio. Là c'è qualcosa. Aiuto. Aiuto. Sono incastrato qui. Oh! 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 Mamma santa! Ok, prendi la scatola dati. Prendi la scatola dati. Ma veramente? Mi ha dato 2 di titanio? Andate tutti a fan... Morene! Bastardi armati che ti inseguono la vita. Leviatani. Leggiamo i dati scaricati. Allora. Dario 12. Dario. Capsula 12. Non sono veramente un medico. Lo so cosa dice la mia testa identificativa. Ma non lo sono mai stato. Ho barato gli esami medici. A cosa serve che un medico di questi tempi sappia come si steccano manualmente le ossa? Quando è stata l'ultima volta che un chirurgo ha effettivamente aperto qualcuno? E a questo che servono i robot? In questi tempi i dottori leggono i diagnosi e le letture dei computer. Accidenti. Whatsapp. Le letture dei computer. Per questo io sono perfettamente qualificato. Ma a che serve quando non sono connesso alla rete principale? Sto sanguinando. Ho delle pustole verdi luminescenti che mi crescono sulle mani. Faccio un'autoscansione. Mi dice che ho un'irritazione sulla pelle. Aspetta. L'unica cosa che ho studiato alla scuola medica è stata come mentire in modo convincente. Che diavolo dovrei sapere di come si cura una cura malattia aliena? Penso che morirò qua giù. Ma no. Aspetta. A me serve un'indicazione per curarmi. Ah, porca vacca. A proposito. Infetto. E ma che a me è servito a esplorare quella roba? Allora non ci resta che andare in quella capsula 13, ah. Ah, bene. Dobbiamo trovare i progetti per il fucile a stasi. E magari il... Non so, forse dovrei iniziare a esplorare con questo fucking muta prone. Però è lentissima, cioè... Non lo so. Non capisco. Ma io credo che proprio là ci sia proprio dove è il reaper. Porca soccola. Ma io... Ah, cosa devo fare? Capsula 13. Ma aspetta un attimo. Non è che la capsula 13 l'abbia già esplorata. L'ho già esplorata. Accidenti. E quindi cosa mi è rimasto da fare? Ah, no. Come? Che stupido. Devo fare la torre aliena. Oh, è vero. Dovrò portarmi tutti i... Cosi viola. Ok, ok, ok. Quindi proviamo a vedere un attimo... Allora, questo cos'è? Un luogo di creature. Ah, no, no, no. Un luogo di creature è niente lì. Quindi, come abbiamo già esplorato tutto, no? Mi sa di sì. Ah, e ne... Eeeh, niente. E niente, devo tornare indietro. Allora, prenderemo subito la tavoletta viola. E i cubi di Ioni. Perché io penso che potrebbero servire. Almeno credo. Andiamo verso la struttura aliena. Adesso quello che faremo è parcheggeremo sotto. Così possiamo subito andarcene. E abbiamo anche abbastanza acqua. E anche un cibo trattato. Così non abbiamo pericoli di morire di fame o di sed. Aia. Ah, ma guarda. L'isola è coperta da una nube. Ecco perché non si vede. Ma guarda, c'è una nube. Ma dai, veramente. Qua c'è qualcosa. Da dove si entra? Non si entra. O forse sì. No. Allora, fammi vedere un attimo la struttura di questa zona. Allora, l'area era all'entrata. E io mi ricordo che è venuto su. Da questa parte. Ma non è qua? What the fuck? What the fuck? Where it is? Where it is? Ah, qua è. Ok, ok, ok. What? What was that sound? Cosa diamine era quel rumore? Perché? 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 Buongiorno. Riprendiamo da dove abbiamo interrotto questo posto. Ah sì, questo. Mi sono scordato di scansionarlo. Dispositivo alieno. Dispositivo dell'Apocalisse. Le scavazioni dicano che questo dispositivo contiene abbastanza energie potenziali da distruggere l'intero pianeta insieme alla maggior parte del sistema solare? Tu? Holy freak. Ok, inserisci la tavoletta. Ok, ne abbiamo due ancora. Quindi adesso una. Molto bene, molto. Non so quanto possa essere un bene entrare in una zona, una roba aliena. Fatta di cose di cui non comprendiamo neanche una, neanche mezza. Se non che hanno tanta energia. Qualsiasi cosa tu tocchi qua ha uno potenziale energetico per distruggere sette pianeti e mezzo. Nucleo d'energia. What? Aia! Ok, fammi capire un attimo bene. C'è un'arma che può distruggere all'interno del sistema solare ed è per qualche motivo innescata su questo pianeta. Però noi siamo venuti qua cercando di fare cose e non possiamo disattivarla perché siamo infetti e in questo pianeta c'è un'infezione ed è sotto quarantena. Ok, quindi devo prima disinfettarmi e poi disattivare sta cosa? Oh, for fuck's sake. Allora, nucleo di energia. Questo rispettivo ospita una quantità di energia equivalente a una detonazione nucleare di 100 megaton. Megatonnellate? Cos'è MT? Mega... MT. Il megaton. MT, ok. Che non appartiene dal sistema internazionale, ovviamente. Ordini termonucleari, ok. Ah, un megaton spregiona un'energia equivalente a un milione di tonnellate di tritolo. Quanti megatoni era la bomba di Fukushima? Hiroshima? Era di 13,18 e 18,23 kiloton. Neanche megaton. Traduzione della trasmissione locale è l'assunto scaricato nella banca dati. Posizione delle strutture aliene. Sono state indecitate dei dati ricordanti le altre strutture aliene da qualche parte sul pianeta. Struzione di ricerca sulle malattie. 800 maitri. Sistema di caverne con monerosi e aperti fossili. Sud ovest è la piattaforma di attuazione. Funzione e studio di esemplare vivi. Sintesi di un antidoto per il batterio altamente infettivo denominato CARA. Sarà qua dove dobbiamo andare? Ok. Impianto termico 1200 metri all'interno di una grande formazione rocciosa naturale. Un'area con intensa attività vulcanica. Generare energia per tutte le strutture locali. Santuario ha dati corrotti, dati corrotti, dati corrotti. In caso di epidemia le procedure di quarantena saranno imposte automaticamente con effetto immediato. La piattaforma di attuazione della quarantena colperà tutti i veicoli dell'atterraggio del collo per venire dalla diffusione. No! No! Cioè se arriva la nave che ci deve salvare viene disattivata. Oh ma porca soccolandia. Ragazzi, sto gioco è sempre più intenso e ansiogeno. Cioè allora abbiamo un alieno che ci alita sul collo. Abbiamo un'infezione. C'è una bomba mega termonucleare. Ci sono gli viattani che come ti vedono ti uccidono. C'è una nave che se non atterra qua e non ci salva non abbiamo altra via d'uscita. Abbiamo almeno cinque cose di cui essere stressati. Trascendo il fatto che siamo sotto il mare. Ah, va bene ragazzi. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio. Noi ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao! Noi ci vediamo in un prossimo episodio.